La didattica di Agostini Scuola accompagna docenti e studenti nel cuore delle opere. Prendete Insights into Literature, la nuova letteratura Black Hat per esempio. È un'opera tradizionale per l'ampio respiro letterario, con un attualissimo approccio visuale e percorsi tematici su civiltà, cultura e attualità. Insights into Literature, la vita dentro le opere. L'opera in due volumi presenta i maggiori autori e i movimenti letterari con taglio cronologico e una struttura chiara e funzionale che va dalla centralità del testo alle schede culturali e interdisciplinari. L'ampio respiro letterario viene garantito da un'accurata selezione dei principali autori, dalle origini ai giorni nostri. Una letteratura visuale che permette la contestualizzazione del testo letterario e affronta il panorama culturale dell'epoca attraverso filmati video, letture di immagini, linee temporali e mappe visuali di sintesi interattive. Approfondimenti interdisciplinari e percorsi tematici collegano i grandi temi della letteratura agli aspetti della cultura contemporanea. Lo studio della letteratura è attivato anche da costanti confronti con autori e temi di altre letterature. Study guides finalizzate alla produzione scritta e orale guidano lo studente fino all'adeguata preparazione in vista dell'esame di Stato. Ogni sezione organizzata in moduli introduce un periodo di studio ben definito attraverso le parole chiave e gli eventi ad esso collegati. Un filmato video immerge gli studenti nel panorama storico-culturale dell'epoca. Il panorama storico-letterario viene prima di tutto contestualizzato in una doppia pagina di grande supporto alla memorizzazione. E in seguito viene sviluppato nel quadro storico-culturale che illustra l'evoluzione della società alla luce degli eventi che lo contraddistinguono. Attività mirate aiutano lo studente a fissare e mappare i concetti principali. Al termine di ogni sezione i temi cardine dell'epoca vengono sviluppati attraverso un approccio interdisciplinare con lo sguardo all'attualità. Uno stimolo per esercitare la produzione orale e migliorare la conoscenza della lingua inglese. I singoli moduli trattano di autori e correnti letterarie mettendo a disposizione un'ampia scelta di testi antologici, attività e schede culturali. Le immagini fungono da guida all'interpretazione letteraria e aprono una finestra verso l'attualità. I percorsi d'arte presentano il repertorio artistico che si intreccia con quello letterario. L'opera d'arte aiuta a interpretare lo spirito di un brano o di un'epoca, anche attraverso filmati video. Una mappa visuale e sintetica chiude ogni modulo e offre uno spunto per la riflessione e la produzione scritta. E in più per il docente una ricca dotazione di materiali audio e video, guide complete e numerosi test di verifica. E gli strumenti digitali? Un'ampia gamma di video arricchisce l'e-book con filmati di storia, arte, cinema e cultura. E ancora, attività interattive, audio mp3 di tutti i brani antologizzati, testi letterari extra e materiali di preparazione alle certificazioni esterne. A complemento dell'opera, attività specifiche per la classe nella piattaforma In Classe e una ricca dotazione di contenuti digitali integrativi Language Plus, con migliaia di attività interattive, organizzate in base ai livelli B1 e B2 del quadro comune europeo e suddivise in sezioni e temi. Insights into Literature si caratterizza anche per una versione liquida studiata apposta per adattarsi a ogni dispositivo, dal computer allo smartphone. Così è in grado di soddisfare le esigenze di studenti con bisogni educativi speciali, alla luce di una reale didattica inclusiva. I volumi sono misti, in linea con le ultime indicazioni ministeriali. Insights into Literature, dal cuore delle opere alle grandi emozioni.